Ciao a tutti carissimi amici, eccoci in questo nostro angolo dove naturalmente voglio svelarvi chi saranno gli ospiti di lunedì 14 dicembre all'appuntamento con 4 chiacchiere in diretta. Allora, partiamo da chi ritorna. Ritorna Luciano D'Addetta che sicuramente lo avete conosciuto nella puntata di novembre. Compositore, strumentista, musicista. Non solo ci racconterà ancora qualcosa di lui, ci farà anche ascoltare con la sua chitarra un po' di musica live ma sicuramente ci presenterà il suo video che è in uscita proprio a gennaio. Altro ritorno della scorsa edizione è un giovane cantautore Alex Normanno perché anche lui ha in uscita il suo singolo e quindi sentiremo un pochettino cosa ci racconterà, cosa è cambiato da quando ci siamo visti l'ultima volta. Poi abbiamo ancora un ritorno, non è stato ospite a 4 chiacchiere però ho avuto modo di fare delle chiacchiere con lui in un'intervista e lui è Valentino Salvini, grande baritono della lirica, quindi ci racconterà e ci porterà nel suo mondo. E poi abbiamo una new entry, quindi un grande benvenuto ad un altro cantautore bravissimo, cantautore italiano, Alfonso Oliver. Un singolo in uscita il 23 dicembre ma naturalmente è anche lui una bellissima storia da raccontarci oltre che farci ascoltare la sua musica. Quindi carissimi amici non avete scuse, collegatevi, sintonizzatevi sulla canale 99 della Digitale Terrestre o 172 per il Lazio ma anche 599 in HD oppure sull'online naturalmente in streaming, basta cercare Lombardia TV e quindi sarete con noi. Ore 21, 14 dicembre e anche con Barbara. Ciao!